Il segreto dell'evangelizzazione è comunicare il Vangelo nello stile del Vangelo, cioè la gratuità, la gioia del dono ricevuto per puro amore. L'ho detto Papa Francesco incontrando in Aula Paolo VI più di 7.000 partecipanti al pellegrinaggio della famiglia Paolina in occasione del centenario di fondazione. Solo chi ha sperimentato tale gioia, ha aggiunto il Papa, la può comunicare, anzi non può non comunicarla, poiché il bene tende sempre a comunicarsi, comunicandolo il bene attecchisce e si sviluppa. Quindi il Pontefice ha incoraggiato gli appartenenti alla famiglia fondata dal Beato Giacomo Alberione a vivere la fede e comunicarla, in particolare mediante gli strumenti editoriali e multimediali, tipici del loro carisma. Questo spingendosi alle genti, ma anche alle periferie esistenziali, con la fantasia della carità che non conosce limiti e sa aprire strade sempre nuove per portare il soffio del Vangelo nelle culture e nei più diversi ambiti sociali.